Bacco, tabacco e venere riducono l'uomo in cenere. Bacco era il dio del vino, tabacco sapete bene che cos'è, venere era la dea dell'amore e della bellezza. Se l'uomo, se un giovane, se butta su bacco, sul tabacco e simili, su venere, e su questo non serve fare esempi, diventiamo cenere, ci bruciamo, ci consumiamo. Queste tre cose sono tre cose che sembrano belle, sembrano che ci riempiano, sembrano darci soddisfazione e invece, come tutti i peccati, che ci sembrano belli all'inizio, una volta che li abbiamo commessi, dopo basta, abbiamo bisogno di rifarne ancora e ancora e ancora più di prima. Siamo liberi non quando ci diciamo e non ho saputo resistere, ma siamo liberi quando diciamo che non c'è mai una buona ragione per commettere peccato. Grazie. 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 Grazie.